Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di una tipologia che però non è stata ancora mai vista su questo canale e che si andrà ad insinuare, diciamo così, all'interno della programmazione dedicata a Warhammer 40.000 Space Marine 2. Ho notato, anche grazie a voi nella sezione commenti che, come di consueto, mi diletto a leggere, a rispondere con cura, con attenzione, che c'è stato un interesse proprio sul fatto di comunicare le novità, diciamo così, legate a questo titolo. Novità che nel corso del tempo si andranno chiaramente a palesare dinnanzi a noi, novità che talvolta forse sarà più facile notare altre volte meno. Io cercherò ogni tanto, diciamo che questa tipologia di video avrà una programmazione molto sparuta in base a quanto i team ci andranno a dedicare appunto a questo genere di informazioni, quindi di conseguenza io andrò poi a recuperare quanto più possibile, ovvio. Però ecco, non vi aspettate una rubrica fissa con delle uscite magari settimanali. Vedremo. In base a quanto materiale sarà disponibile, chiaramente io cercherò di stare attento a riportarvi le notizie quanto meno più succosi e ufficiali tendenzialmente. Cercherò comunque di rimanere un po' più lontano da tutti i leak, i vari rumors, tutto questo genere di brusio che spesso e volentieri nell'ambito videoludico, ma non solo videoludico, lo possiamo ormai ritrovare su qualsivoglia genere di media, si palesa chiaramente dinnanzi ad un prodotto che deve ancora essere pubblicato e annunciato ufficialmente sui canali degli sviluppatori. In questo caso però, per questo primo video, abbiamo del materiale che invece è completamente ufficiale. È stato, diciamo, pubblicato in data 15 ottobre 2024. Io mi ritrovo qualche giorno dopo a commentarlo. E tra l'altro una parte di questo materiale, visto in questo video di lancio, diciamo che è già arrivata a disposizione dei giocatori, quindi non mi dilungherò molto su alcune parti, non per determinati motivi, ma proprio perché è stato già dimostrato ed è già palese, insomma, agli occhi dei giocatori stessi, cosa che poi magari andremo anche a recuperare in parte giocando appunto le missioni in PvE, cosa che tra l'altro vi annuncio, andremo avanti a analizzare in ogni caso, quindi non vi preoccupate. Detto ciò, fatta questa piccola introduzione iniziale, iniziamo ad esaminare effettivamente la quantità di contenuti che stanno arrivando, che sono già arrivati appunto per Warhammer 40.000 Space Marine 2, un gioco che chiaramente vivrà tantissimo di supporto, quindi anche per chi ancora non l'ha acquistato e magari si vuol fare un'idea di come il gioco potrebbe venire appunto supportato nel corso del tempo, sappiate che Focus Home e Cyber Interactive stanno già facendo tanto. Una roadmap era stata già pubblicata prima ancora del rilascio effettivo del gioco, quindi grande attenzione anche al reparto comunicazioni dell'azienda, che non è per nulla qualcosa di scontato. Il rapporto col pubblico è sempre importante, perché alla fine i giocatori sono quelli che decidono in buona sostanza il fallimento o il successo di un titolo, anche se dobbiamo dirlo, Space Marine 2 ha ormai più di un mese dalla sua pubblicazione, sta godendo di ottima salute e queste sono ottime notizie non solo per i giocatori in sé, ma anche per chi appunto vorrà recuperare il gioco magari con le scontistiche natalizie su determinati siti, quali anche Steam banalmente, oppure non so, i vari store, e per chi ulteriormente magari nemmeno avrà modo di giocarlo nel prossimo periodo, ma potrebbe godere del fatto anche semplicemente di, come dire, un continuo richiamo a Warhammer 40.000. Questo significa chiaramente che GV continuerà a dare attenzioni al prodotto anche attraverso le licenze, cosa non da sottovalutare assolutamente. Detto questo, quindi ora davvero caliamo nel contenuto vero e proprio, ma prima di farlo, ancora una volta, voglio ringraziare un ragazzo della community, un membro veramente ormai affermato, lo conoscete probabilmente se avete anche seguito la serie di Parliamo di Lore, è Tanaka, chiaramente, che mi ha aiutato, e qui sottolineo appunto l'importanza anche dell'aiuto che alcuni di voi mi danno e io chiaramente credo sia anche giusto ringraziarvi nei video facendo proprio, come dire, lavoro di community ancora di più. Grazie mille, chiaramente, a Tanaka, che mi ha dato una mano, devo dire anche importante, nello spottare all'interno del trailer alcune cose che scopriremo nel corso appunto di questa disamina video. Quindi grazie mille Tanaka, ragazzi, detto questo, ora davvero iniziamo. Il primo contenuto chiaramente riguarda le cose più eclatanti appunto, del, diciamo, aggiornamento gratuito per tutti, quindi anche per coloro che non vorranno magari inserirsi nelle dinamiche dei vari battle pass che arriveranno, sostanzialmente, del contenuto a pagamento che poi appunto andremo ad analizzare. Questo primo, diciamo, contenuto importante riguarda le missioni. Le missioni PvE, in particolar modo, una nuova missione PvE che arriva proprio con un interesse specifico per quanto concerne i tiranidi, perché la prima missione PvE va proprio a toccare un aspetto, a mio modo di vedere, estremamente interessante, che è quello, chiaramente, di Kadaku. Lo vedete anche probabilmente dalle immagini che vi passeranno sotto gli occhi, parti del video stesso, alcuni ferme immagini. Insomma, materiale che vi potete rendere conto voi stessi ci riporta ad una dimensione già nota, appunto questo mondo sotto assedio da parte dei tiranidi, e appunto, parlando dei tiranidi, una nuova missione PvE estremamente focalizzata sull'abbattimento di una nuova minaccia, terrificante, chiaramente, meravigliosamente terrificante, aggiungerei da fan dei tiranidi, che è il biotitano, lo ierofante in particolar modo, perché di biotitano ne esistono diversi, lo ierofante forse è quello più iconico, una minaccia gigantesca, una minaccia che già qualcuno di voi sicuramente in questo momento avrà affrontato e starà affrontando per chi possiede il gioco, perché questo contenuto è già effettivamente a disposizione. Quindi non mi dilungherò molto, una missione nuova, affascinante, di boss fight, letteralmente uno dei boss forse più enormi che si possano incontrare, molto molto, diciamo, fascinosa, mi auguro chiaramente che ne arriveranno altre, perché appunto il PvE vive di questo, ha bisogno di variabilità, ha bisogno di operazioni che diano modo ai giocatori di non annoiarsi. E da questo punto di vista giunge anche una nuova difficoltà che aumenta ulteriormente, alza ulteriormente l'asticella, appunto, spingendo i giocatori già ormai veterani che hanno raggiunto i livelli più alti, con tutti i loadout possibili e immaginabili, appunto, ad affrontare orde ancora più tenaci, ancora più resistenti e minacciose. Oltre a questo, viene aggiunta una nuova tipologia di arma, un'arma secondaria, meravigliosa anch'essa, la Volkite Pistol, che fa anche riferimento ad un'arma, diciamo, di una tecnologia particolarmente antica, riscoperta, anche rielaborata da Belisarius Cole, quindi anche questo aspetto estremamente interessante, perché poi porterà sicuramente in futuro ad altro. Anche quest'arma, chiaramente, godrà di varie, diciamo, particolarità a livello di personalizzazione, come anche le altre armi hanno già avuto modo di palesare, chiaramente. Questo, diciamo, è il contenuto gratuito già a disposizione, che è giunto, tra l'altro, con una serie di fix varie ed eventuali ai vari problemi che il gioco ha palesato nel corso dell'ultimo mese, all'incirca. Questa è un'altra cosa molto importante, perché, chiaramente, l'ottimizzazione e il mantenimento del videogioco in un buono stato è quanto più di fondamentale si possa desiderare di avere, quindi bene che il team porti avanti anche questo lavoro, che magari noi notiamo meno, ma che è importantissimo. Per poi arrivare alla seconda parte, diciamo così, di questo video, su cui adesso ci soffermeremo su alcuni aspetti molto, forse, più minimali. Aggiungerei, ma minimali non scontati, minimali non significa da poco. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto. Che riguardano, invece, il contenuto a pagamento, questo season pass, questo battle pass, chiamatelo un po' come volete, ma la sostanza di base è quella. Quindi un pass a pagamento. Sapevamo già che l'argomento di riferimento era il capitolo dei Dark Angels con tutti i loro successori, quindi The Unforgiven, che arrivano, sostanziale, ecco, tutto il Champion Pack, il Cosmetic Pack e il Weapon Skin Pack, quindi i campioni, la cosmetica generale e le armi. Questo permette, chiaramente, di sbloccare tutta una serie di novità, anche meramente estetiche, che andranno proprio a rendere il fan degli Angeli Oscuri molto, 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 molto felice, perché, appunto, abbiamo tutta una serie di novità chiaramente affascinanti, che il video riporta in maniera molto esplicita, anche con degli spallacci che vanno a, diciamo, riportare degli elementi particolari del capitolo. Quindi la personalizzazione ne giova tantissimo da questo punto di vista. Si può spingere ulteriormente sull'acceleratore della... anche proprio del calarsi dentro un'armatura e sentirla ancora più propria, ancora più personale. In questo, diciamo, susseguirsi, ecco, di schermate, si ha poi un piccolo momento dove si parla di tutte quelle che sono le heraldri, no? le heraldiche capitolari. Si possono notare diversi capitoli successori, appunto, degli Angeli Oscuri. E qui anche un aspetto interessante che viene fatto, diciamo, notare, legato ai Bringers of Judgment, che sostanzialmente, appunto, capitolo successore, che palesano tutto insieme di colori, tra cui... tra, appunto, i colori principali, color pattern veri e propri, anche l'Auric Gold Armor. Un colore, sostanzialmente, che potrà permettere di rendere i propri capitoli anche dorati, quindi si possono anche scimmiottare... in futuro si potranno scimmiottare, appunto, anche per un fan degli Angeli Sanguinari, della Guardia Sanguinaria. Potrebbe essere anche quello un modo. Quindi viene dato il colore oro, questo colore oro particolare, chiaramente, insieme anche a tanti altri, perché non è l'unico colore nuovo aggiunto. Vengono date anche delle decals di compagnia estremamente specifiche. Abbiamo già visto qualcosina, ma molto limitatamente. Ecco, questo aspetto viene spinto ancora di più. Tra l'altro, non solo viene raccontato questo, quindi decals di compagnia, ma anche decals, diciamo, da spallaccio, utili a rendere ancora di più l'aspetto delle squadre tattiche, perché, appunto, in un frame di questo video di presentazione viene palesata, diciamo così, l'icona sullo spallaccio di appartenenza, appunto, della propria squadra, che sia una squadra di supporto ravvicinato, di supporto di fuoco, veterana, oppure di prima linea. Questo è anche un argomento che ho trattato in un video dedicato proprio agli Space Marine, sull'organizzazione delle squadre. Quindi, ecco, vengono date finalmente anche questi riferimenti, che sono chiaramente molto graditi e si potranno vedere probabilmente anche per tutti gli altri capitoli di appartenenza. Questi chiaramente sono specifici per i Dark Angel, ma non solo. E, appunto, si avranno anche delle icone di rimando, probabilmente a che cosa? A delle campagne specifiche che faranno probabilmente riferimento a delle battaglie, o delle macro campagne, vissute proprio da capitolo, magari in questo caso il fondatore, ma non solo. E questo apre a tutto un livello di personalizzazione che vedremo probabilmente ripalesarsi nei prossimi Battle Pass, dedicati ad altri capitoli principali. Quindi possiamo immaginarci ulteriori avanzamenti da questo punto di vista per la personalizzazione. Quindi si apre ancora di più il ventaglio. Non a caso viene addirittura mostrato in un altro frame un dettaglio sulla ginocchiera di uno dei Space Marine di capitolo successore, che dimostra un'attenzione addirittura per i mark specifici della compagnia di appartenenza. Perché questo ginocchio viene diviso in quattro bande, sostanzialmente, a scacchiera, ecco. Bianca, verde e nera, che è tipica, ad esempio, della quinta compagnia. Quindi non è, come dire, così assurdo pensare che magari verranno anche date le personalizzazioni per singola compagnia. Io voglio impersonificare il Dark Angel o il Bringer of Judgment della settima compagnia. Bene, posso farlo. Ma no, non voglio più farlo. A un certo punto cambio, voglio andare a rappresentare uno della quarta compagnia. Avrò, appunto, un'altra ginocchiera della quarta compagnia, con il motivetto bianco osso nella parte bassa e il motivetto a scacchiera nella parte alta. Quindi, insomma, anche qui abbiamo un livello, ripeto, di personalizzazione estremamente specifico, legato in particolar modo ad Archangel, che ricevono anche, tra l'altro, una skin specifica per i Bulwark, per questa classe Bulwark, che avrà modo, sostanzialmente, di ricevere una, veramente, un'attenzione senza pari, nemmeno nelle altre classi di appartenenza. E poi, appunto, a proposito di personalizzazione e di futuro, in particolare di futuro della personalizzazione, proprio in uno dei menu, diciamo, legati a questo aspetto, viene mostrato, tra i capitoli, sostanzialmente, nella selezione dei capitoli, dei macro capitoli d'appartenenza, uno spoiler per il futuro, perché viene mostrato l'emblema caratteristico della Guardia del Corbo, della Ravengard, che, probabilmente, adesso lo possiamo ipotizzare, chiaramente, in base a queste immagini ufficiali, sarà protagonista del prossimo Battle Pass, del prossimo Season Pass. Quindi, grande attenzione, mi raccomando, per, e tra l'altro si vede anche nel video, ci sono dei piccoli frame, dove si vede proprio un rappresentante, probabilmente, della Guardia del Corbo. Attenzione, chiaramente, fan della Guardia del Corbo e capitoli successori, magari ci sono dei capitoli che vi possono affascinare in particolar modo, perché è molto probabile che sarà, appunto, la protagonista del prossimo Season Pass, cosa non da poco, non da sottovalutare. Altro aspetto interessante che, in questi video, diciamo, viene intravisto, si vede qua e là, in un frame in particolar modo, ma che non viene evidenziato dal, diciamo, dalla narrazione che ne fanno gli sviluppatori stessi, è molto interessante perché, durante una scena, si intravede nello sfondo, e qui Tanaka mi ha aiutato a spottarlo, un Sorcerer, uno stregone, Zangor, su disco di Zinch. Quindi, nuova tipologia di nemico, che non abbiamo visto, perché, chiaramente, gli Zangor li conosciamo, sono già presenti in gioco, ma lo Zangor stregone, su disco, no. E questa cosa, diciamo, porta anche qui al possibile lavorazione di un nuovo tipo di nemico, che verrà aggiunto, magari, nei prossimi mesi. Parlando, tra l'altro, diciamo, di date, abbiamo riferimenti limitati, ora, la giunta della nuova missione PvE, con la difficoltà, la pistola Volkite, abbiamo già tutto, sostanzialmente, già tutto presente. Per quanto riguarda il Season Pass dei Dark Angel, ci possiamo già immaginare un arrivo nel mese prossimo, magari, appunto, entro novembre, dicembre, comunque, entro la fine dell'anno, e non oltre, per poi passare al 2025, con il riagganciarsi alla roadmap, che probabilmente ci porterà la Ravengard, e capitoli successori, con tutta questa attenzione estetica molto interessante, nuova possibilità di un nemico, che, appunto, potrebbe palesare, anche come nemici generici, magari riesco anche a lacciare qualche discorso, senza incappare in errori grossolani, perdonatemi, ma, appunto, nemici interessanti come questi, ed eventualmente, appunto, riagganciarci poi alla roadmap generale, che, comunque, sappiamo, ci porterà, veramente, a vedere diversi contenuti differenti, mi auguro, sempre interessanti, come si stanno palesando questi, perché, ripeto, la Season 2 è già partita, sostanzialmente, con queste nuove missioni. Arriverà una Season 3, con un'altra missione PvE, ma anche nuove modalità PvP, che, in questo caso, non abbiamo ancora visto nulla di tutto questo. Quindi, nuove modalità PvP, ci potrebbero raccontare anche di cattura alla bandiera, cose, insomma, che non abbiamo ancora potuto vedere, e nuove arene PvP, perché il PvP, ecco, in questo contesto, diciamo, per il futuro prossimo, non sono state toccate, non più di tanto. Ci saranno delle piccole novità, chiaramente, anche qui, la personalizzazione poi tornerà anche per il PvP, però, non novità sostanziali da questo punto di vista. arriveranno anche i ranghi prestigio per quanto riguarda il PvE. Sappiamo che deve arrivare anche la modalità Horda, che è molto attesa, ma tutto questo scalerà nel corso del 2024. Modalità Horda, insomma, che ricollega anche un pochettino questo secondo titolo al primo, che aveva sostanzialmente solo la modalità Horda. Quindi, come vedete, il fiato è lungo, no? L'attenzione è sul lungo termine. Io mi auguro di avervi riportato quanto più possibile. Non mi sono soffermato molto sulla parte dedicata al bio titano, alla nuova missione giunta, appunto, con quest'ultimo aggiornamento, perché la vedremo insieme. Quindi non voglio, ecco, ammorbarvi troppo su una cosa che avete magari già avuto modo di vedere qua e là o di giocare direttamente. Sappiate che la giocherò anch'io, quindi avremo modo poi di parlare meglio di anche cose di lore all'interno del video dedicato a quella missione. Ci arriveremo. Detto questo, io voglio chiaramente chiedervi il vostro parere. Cosa ne pensate anche di questo modo di gestire il gioco post-release, quindi dopo il suo lancio effettivo? Cosa ne pensate di questi pacchetti, di come verranno gestiti? Dobbiamo capire anche le datazioni, i costi, perché chiaramente anche questo sarà interessante valutarlo. C'è sempre un costo dietro questi pacchetti, questi season pass. ma anche il materiale gratuito che secondo me veramente fiora l'occhiello. Se portato avanti con questa scaletta con una certa anche intensità nel corso dei mesi, sicuramente permetterà al gioco di giovare tantissimo anche nella rigiocabilità nel lungo termine. Quindi non soltanto per i nuovi arrivati, ma anche per i veterani della primissima ora che si stanno già direttando da tempo, continuare a riscoprire il gioco e a meravigliarsi e ad amarlo e rimanere così legati alle vicende, insomma che ci stanno appassionando e spero vaga anche per voi. Sentitevi quindi liberi di commentare come volete nella sezione appunto apposita. Io sarò più che felice di rispondervi, di aprire dei dibattiti, insomma pareri personali e tutto quello che vi va. Detto questo io giungo a questo punto nei saluti. Direi che abbiamo esaurito almeno per il momento questa fase di aggiornamento per quanto concerne le novità su Warhammer 40.000 Space Marine 2. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo piccolo contenuto aggiuntivo sia di vostro gradimento. Grazie ancora e se lo vorrete come di consueto al prossimo video.